Io non credo assolutamente nella fortuna, in generale. Ma per adesso i miei soldi sono lì, sono lì dove li posso vedere. Ho costruito tutto dal basso grazie alla mia famiglia, grazie ai miei amici. Adesso è arrivato il momento anche per Filippo Accantio, dover rendere questo favore. Nella mia carriera nel poker ho sempre cercato anche poi Filippo Accantio. Io fra dieci anni mi vedo sempre lì, seduto a un tavolo, mazza di carta, un po' di chips, un dealer, forse. Alla fine sì, è proprio lì che mi vedo ed è lì dove vorrei essere. The World Series of Pok. Alla fine sì, è proprio lì.